Quanto si soffre Rado a guardare la partita da fuori delle ultime due partite? Le viste da lì sono stati due risultati diversi però penso che la sofferenza sia stata la stessa. Visto che non è la prima volta già mi sto abituando di guardare la partita dal lato corto. Ovviamente da giocatore era più facile, da allenatore ancora più difficile, da vederla in tribuna, ancora di più. Sono contento per la qualificazione. Ovviamente in questo periodo abbiamo caricato la squadra fisicamente, adesso dobbiamo iniziare a pensare per il nostro gioco. Abbiamo tre partite molto ravvicinati dove abbiamo urgente bisogno dei punti. È stata una partita strana quella con Molfetta perché Trento forse avrebbe potuto andare anche sul 2-0 quanto meno sul 2-1 vedendo l'andamento del set molto bene nella fase di recupero del secondo set quando sembrava già perso. Oggi l'ho rivista la partita e devo dire che ci sono state alcune situazioni veramente rare da vedere nel pallavollo dove sembrava che il punto l'abbiamo già fatto e la fine per la bravura del Molfetta perché hanno difeso tantissimo, hanno contraattaccato. Veramente sono successi alcune situazioni molto rare però sempre sono andate a favore loro che, ripeto ancora una volta, è solo merito loro. Però hanno condizionato la partita e alla fine sono contento della bravura dei giocatori di vincere il quarto set. Prima di guardare avanti si pensa anche alla semifinale. Prima di guardare a Padova si pensa alla semifinale con Macerata. Sarà una partita difficilissima ma d'altronde le quattro squadre più forti arrivano a Milano. È normale che sia così? Prima di parlare della semifinale noi pensiamo per le partite del campionato, quelli di Champions e più avanti penseremo per la semifinale della Coppa. Ovviamente a trovarsi ancora una volta in Final Four con una compagnia così importante come la squadra di Lube, Modena e Perugia per noi fa solo un'ora. Però, come dico sempre, la fame arriva mangiando, quindi noi pensiamo una partita alla volta. L'ultimo argomento da toccare è il match di Padova, la prima trasferta del 2016. Non una partita semplice, anche guardando al match d'andata era stato un 3-1 sudato. Sì, in girona di andata abbiamo sofferto tanto in casa contro Padova perché loro hanno giocato bene. Noi dobbiamo migliorare per cercare la vittoria lì. Sappiamo, siamo consapevoli che è una partita molto complicata, ma se vogliamo arrivare a giocare contro le squadre più forti dobbiamo passare senza nulla togliere a Padova, dobbiamo passare prima da Padova. È una partita molto importante dal punto di vista della classifica per noi, per il futuro, quindi dobbiamo essere veramente bravi. Grazie. Grazie. Grazie.